buongiorno a tutti in questo video proviamo a svolgere un esercizio partendo da una pagina html e applicando bootstrap come framework css per dare dello stile allora giusto una panoramica io ho creato un file html che ho chiamato index html messo in una cartella e questo un file html 5 vedete utilizza facciamo una breve panoramica appunto va bene c'è il tag html nel head abbiamo solo il titolo quello che compare qui che esami dentro il body abbiamo diviso il body in due sezioni leader che contiene solo un'intestazione di primo livello che si chiama i miei esami vedete questa qui e che di tipo block ovviamente display block e un main quindi un'area principale del nostro della nostra pagina questo main al suo interno contiene una frase la tabella seguente riassume gli esami che ho sostenuto l'università del piemonte orientale nella laurea di informatica università del piemonte orientale è un link a uniupo.it e poi c'è una tabella che ha come campi di intestazione data esame crediti e voto e poi tre esami che voi potreste aver sostenuto tre esami del primo semestre di quest'anno con le rispettive date di superamento il nome dell'esame quanti crediti era quell'esame e che voto avete conseguito ovviamente voti fittizi ora questa pagina dato che una pagina html non ha stile non ha un layout questo è un header ma è un concetto semantico non è un concetto reale questa è la parte principale ma cosa vuol dire che è la parte principale? noi vorremmo per esempio non so che l'header avesse un bello sfondo proviamo a metterlo con uno stile in linea che ripeto non è da fare però giusto per background color vedete che viso studio code vi suggerisce anche l'autocompletamento dei possibili valori di delle proprietà e anche delle proprietà sia nel file html che nel file css e per esempio diciamo che lo vorremmo un light gray ok allora salviamo aggiorniamo e vedete che l'header adesso ha uno sfondo grigio però vorremmo magari fare un po' meglio di così non vorremmo che questo header finisse qui questo bianco magari andasse avanti fino in fondo e così via quindi per dargli uno stile migliore più coerente applichiamo come abbiamo detto bootstrap quindi qui questo posso chiuderlo qui ho aperto il sito di bootstrap che è getbootstrap.com noi utilizzeremo la versione 4.4 e nel sito viene raccontato come utilizzarlo come installarlo ci sono vari esempi che si possono scaricare quindi html css da in certo senso copiare incollare da questo esempio al vostro codice bootstrap funisce anche alcuni icone e vi dice anche cliccando su di esse come utilizzarle nel vostro codice nel caso vi servisse anche alcuni temi e molti sono a pagamento da applicare per dare uno stile ancora diverso alla vostra pagina poi a un blog, dei link social e così via la parte che ci interessa è la parte relativa alla documentazione che racconta sia come si utilizza mostra uno starter template che adesso noi cercheremo di replicare nel nostro sito noi vogliamo fare sì che il nostro sito assuma appunto un aspetto un pochino più carino rispetto a questo e quindi questa sia magari la barra di navigazione, la tabella sia ben visibile e in generale applicare bootstrap quindi come applichiamo bootstrap alla nostra pagina? partiamo dalle informazioni dello starter template lo starter template ci dice aggiungete tre informazioni uno, due e tre dei metatag richiesti quindi dei metadati che vengono letti dal browser nel led ma non vengono ovviamente visualizzati uno che come vi dicevo è quello che definisce la codifica dei caratteri quindi diciamo la nostra pagina sarà utf8 e l'altro che definisce la viewport della nostra pagina dice che la viewport della nostra pagina e questo è per l'abilità la parte responsive quindi la parte visibile nel nostro schermo, nel nostro browser avrà come livello di zoom, livello di scalamento 1 non cercherà di adattarsi, di ridursi per per stare nello schermo in automatico quindi non cercherà di ridurre lo zoom in automatico e la profondità, la larghezza della pagina sarà esattamente uguale alla larghezza del dispositivo quindi alla larghezza dello schermo nel mio caso quindi incolliamo queste due righe nel led sistemiamo l'identazione e poi ci dice dovete mettere, prima di title, il css di bootstrap quindi tutte le informazioni di layout, di contenuti, bottoni e quant'altro che vengono, i stili grafici di testo e font che vengono impostati da bootstrap di default quindi incolliamo anche questa riga vedete che questo, come avevo detto, è un link di tipo stylesheet che ha in questo caso un path a un indirizzo http non a un file locale ma funziona uguale e ha poi una chiave di integrità che il browser può utilizzare per verificare che questo file sia quello autentico e non sia malevolo o finto e quindi cerchi di iniettare del css che non devi iniettare dopodiché c'è il title, c'è il body e poi c'è dello javascript opzionale noi al momento non lo utilizzeremo però incolliamo anche queste tre righe notate, questa è un'anticipazione, che mentre il css viene caricato all'inizio della pagina il javascript viene caricato alla fine del body o meglio, mentre il css viene tipicamente caricato deve essere caricato nel led il javascript può essere sia caricato nel led sia caricato in fondo al body e tipicamente viene caricato in fondo al body questo perché? perché il browser legge e parsifica l'html lo costruisce quell'albero che abbiamo visto dall'inizio alla fine e quindi qui deve leggere il css perché deve dargli lo stile corretto a tutti gli elementi prima di renderizzarli se noi inserissimo qui nel led del javascript e questo javascript facesse cose nella nostra pagina che richiedono tempo, magari in maniera bloccante il caricamento della pagina si bloccherebbe in un certo senso finché questi file javascript non vengono eseguiti interamente allora quello che si fa per velocizzare il caricamento della pagina è mettere i file javascript in fondo al body quindi caricati per ultima cosa nella pagina in modo che la pagina possa intanto essere visualizzata letta dalle persone e nel momento in cui le persone dovranno cliccare su un qualche elemento che richiede il javascript questi file saranno finalmente caricati ma tutto il resto ovviamente viene caricato e visualizzato correttamente quindi in fondo al body mettiamo i javascript che servono a bootstrap in realtà che sono jquery, una libreria, popper e proprio dei javascript che definiscono bootstrap allora salviamo questo e proviamo già solo così ad aggiornare la nostra pagina vedete che aggiornando la nostra pagina già l'aspetto è cambiato solo è importante bootstrap perché? perché bootstrap come foglio di stile esterno applica uno stile di default a per esempio l'h1, al p e alla tabella ai link che non sono più sottolineati di default ma solo quando metti il mouse sopra quindi applica già un certo stile di default anche se noi non abbiamo applicato niente nessuna classe o nessun id quindi ha uno stile che si applica per esempio ep che si applica body che definisce il font per esempio di tutto ha rimosso il bordo che prima c'era i miei esami prima erano un po' staccato dal bordo e così via e se noi ispezioniamo la pagina vedete che adesso vedete che h1 per esempio ha un font size di 2.5 rem rem è un'unità di misura relativa che definisce la grandezza appunto del font o la grandezza in generale relativa al browser quindi è un diciamo è una cosa simile alla grandezza percentuale che abbiamo visto prima per il width e vedete che per esempio sul sul body definisce che il margine del body è zero che il font family deve prima essere quella di sistema poi se non c'è questo blink mac system font poi se non c'è segue poi se non c'è robot e così via la dimensione di default del body quindi di p se non viene sovrascritto è un rem lo spessore del font quindi quanto è spessa la linea di ogni carattere è di 400 la linea, l'altezza della linea è 1.5 e il font, il testo è nero ma non nero proprio nero secco ma un nero verso il grigio il testo è sempre legnato a sinistra e il colore di sfondo del body è bianco ovviamente questo è display block quindi inizia già ad applicare qualcosa che ci serve che ci può essere utile e che ci cambia l'aspetto rispetto a prima ora diamogli però una struttura diversa per esempio vorremmo far sì che questo diventi una navbar e vorremmo che questa tabella avesse un bordo per esempio allora andiamo a vedere nella documentazione di Bootstrap nel layout come possiamo strutturare come dobbiamo strutturare il layout di Bootstrap allora Bootstrap come vi dicevo è basato sul concetto di colonne di queste 12 colonne virtuali che hanno questi breakpoint per il mobile e hanno dei prefissi numero di colonne col per l'extra small col sm per lo small quindi 576 pixel successivi col md, lg e xl se è definito uno solo per esempio col questo vale dall'extra small in su quindi se noi volessimo definire un sito un layout con Bootstrap qui vedete c'è tutta la documentazione quello che dobbiamo fare è prima di tutto datemi trovare un esempio ecco qua prima di tutto vedete qui il .bootstrap ha una serie di esempi sia in formato visuale sia il codice che rappresenta questo esempio prima di tutto dobbiamo utilizzare un container quindi dobbiamo dire che e ce lo spiega qui che container sono gli elementi di base e sono richiesti quindi sono obbligatori e sono appunto utilizzati per contenere degli elementi nella pagina e ci sono essenzialmente due tipi di container il container normale il container fluido il container normale è responsive ma ha una larghezza fissa che cambia ad ogni breakpoint quale breakpoint? questi quindi sarà del 100% sull'extra small il container normale sarà del 100% sull'extra small varrà 540 sullo small e così via quindi ha una larghezza fissa il container fluid invece è a tutto schermo non ha una larghezza fissa ed è appunto totalmente relativo quindi usiamo per esempio il container fluid negli esempi di bootstrap mostra ediv per renderizzare la pagina ma noi utilizzeremo invece gli elementi semantici che ci servono sono equivalenti quindi per esempio mettiamo il main come class container fluid container fluid ok quindi abbiamo solo applicato una classe a questo main e cosa dobbiamo mettere all'interno di un contenitore? dobbiamo mettere e lo prendiamo di nuovo da di qua dobbiamo prendere una riga allora bootstrap ha questo concetto c'è un contenitore il contenitore ha una o più righe e queste righe hanno varie colonne quindi nel nostro caso noi per esempio avremmo un contenitore che è tutto il main in questo contenitore potremmo dire che abbiamo due righe la prima riga è questo p e la seconda riga è questa tabella entrambe queste righe hanno nel nostro caso occupano 12 colonne quindi tutto lo spazio perché non abbiamo niente di particolare da mettere prima quindi qui a questo punto aggiungiamo un anzi aggiungiamo in questo caso aggiungiamo un div che chiamiamo class row che racchiude il nostro p e poi possiamo dire che il nostro p per esempio è su 12 colonne quindi col controlliamo nella documentazione ma se utilizziamo col stiamo dicendo di utilizzare tutto lo spazio mentre se volessimo specificare col 6 vorrebbe dire col 8 vuol dire uno spazio di 8 colonne e col 4, il rimanente 4 invece col usa tutto lo spazio o lo distribuisce in maniera equa quindi utilizziamo col perché usa tutto lo spazio e poi facciamo la stessa cosa su table quindi qui creiamo un'altra row un'altra riga che racchiude la nostra tabella e e allineiamo questo table di conseguenza ok e questo table diciamo che anche lui per esempio che lui invece sarà un col vediamo possiamo mettere delle colonne centrate no però possiamo dire che il nostro col non vogliamo che sia tutta pagina diciamo che è un col 8 quindi col 8 vediamo com'è cambiato ecco vedete che questo ha iniziato vedete è in un container fluid c'è una riga e questa riga è una colonna questo col ha è di tipo flex tra l'altro è il nostro testo e ha allineato ha raggiunto dello spazio davanti perché cerca di occupare tutto lo spazio possibile poi qui abbiamo una seconda riga che è la nostra tabella che è di tipo col 8 invece vedete che col 8 finisce a un certo punto se noi cambiassimo mettessimo per esempio col e basta vedete che la nostra tabella si espande a tutto schermo col 6 sarebbe grande la metà dello schermo diciamo che col 6 ci potrebbe piacere di più di col 8 e quindi proviamo a lasciare col 6 questo è ovviamente un esempio poi per dare lo stile dobbiamo ragionarci meglio su cosa vogliamo fare e nel laboratorio per esempio voi avete già uno screenshot ad esempio di quello che volete ottenere qui invece stiamo solo in un certo senso giocando e sperimentando con bootstrap e allora adesso cosa vogliamo fare vogliamo siamo abbastanza soddisfatti di come appare questo P quindi possiamo lasciarlo così vorremmo dare uno stile migliore alla tabella e mettere un header una barra di navigazione un header migliore qui allora andiamo a vedere che che cosa bootstrap ci offre come componenti allora vedete che bootstrap ci offre tutta una serie di componenti per esempio agli alert quindi messaggi che appaiono all'inizio che possono avere del test che possono essere di vario colore e vedete sono molto semplici sono dei div sono degli elementi che qui sono sempre esemplificati con div con delle classi in questo caso ci sono due classi alert per dire che è un alert generico e alert primary per dare il colore questo qui vedete alert secondary ha un altro colore il ruolo che ha questo div o questo elemento specifico per aggiungere della semantica e poi il testo dell'alert e si può anche cambiare il colore al link sugli alert poi hai beige quindi una serie di proprietà quindi etichette da appendere anche qui nei bottoni oppure nel testo con vari colori di nuovo primary secondary eccetera e dato che questi sono elementi in line vengono visualizzati come span e non come div anche qui vedete stesso meccanismo voglio rendere questo un badge quindi una etichetta fatta in questo modo gli applico due classi definite da bootstrap una è la classe beige per dire che questo è un beige e non un alert per esempio e l'altro come deve apparire quindi quale proprietà grafiche in questo caso deve avere quindi in questo caso il colore di sfondo e il colore di testo del testo nel caso in cui non possiamo scrivere bianco su bianco poi ha le breadcam quindi la prima navigazione nel sito definisce dei bottoni anche qui vari colori vari stili senza sfondo di varie dimensioni più grandi più piccoli grossi come la pagina attivi disattivati eccetera tutto quello che potrebbe servire i bottoni a gruppi quindi come raggruppare insieme dei bottoni delle carte del card che appaiono in questo modo quando un'immagine un titolo un testo ed eventualmente un bottone o altri elementi il carosello che ha bisogno di javascript quindi che fa vedere fa muovere tra diversi contenuti o cliccando sulle frecce dopo un po' di tempo il collapse quindi come far vedere e nascondere del contenuto al click di un bottone o di un elemento nella pagina e così via i bottoni drop down quindi bottoni che mostrano che sembrano bottoni ma che hanno un menu che appare cliccando e una serie di altre proprietà apriamone ancora un paio giusto per vedere per esempio i gruppi di input quindi come possiamo rendere i campi di input un pochino più esplicativi per esempio se fosse una mail potremmo aggiungerci chiocciola una mail se fossero dei soldi potremmo mettere il simbolo del dollaro dell'euro e aspettarci un numero i modali quindi finestre che appaiono e hanno delle azioni per esempio se io clicco su questo bottone mi appare un modale in cui magari ci sarà un form magari c'è qualcosa che posso fare e poi dei bottoni chiudi e quant'altro quindi finestre in pop up finestre in sovrimpensione e poi che è quello che e così via e questo è tutto qui potete dargli un'occhiata guardarli e sperimentarli c'è sempre il codice questo è il codice che serve per far funzionare questo questo bottone quindi incollando questo esatto codice nell'html dovreste ottenere lo stesso identico risultato una volta che avete impostato i link di bootstrap in maniera corretta e a noi quello che ci interessa abbiamo detto che vorremmo che i miei esami fosse una barra di navigazione tipo questa quindi qui ci fosse scritto i miei esami invece del logo di B i miei esami nient'altro bootstrap ci mette a disposizione la navbar la navbar eccola qui vedete come solito c'è esempio è il codice relativo è appunto una barra che ha un logo dei link un campo di ricerca può avere vari elementi come volete voi e questa è una versione più minima diciamo con solo navbar come lì con solo il titolo cliccabile o non cliccabile potete metterci un logo vi fa vedere tantissimi esempi di modi diversi per farlo per realizzare una navbar vedete con bottoni piccoli grandi solo con del testo di vario tipo di schema di colori e così via e vi dice anche che la navbar anche se non è richiesto potrebbe stare dentro un container ecco perché io per esempio non ho messo un container qui perché per la navbar non è richiesto che sia dentro un container nel caso di bootstrap e quindi non dentro una raw e non dentro delle colonne perché è un elemento in un certo senso particolare che deve stare qui sopra allora noi andiamo a creare una navbar con solo la scritta i miei esami e partiamo dall'esempio questo esempio qui ci potrebbe andare bene quindi prendiamo questo e mettiamolo nel letter possiamo poi cancellare questo h1 perché? perché navbar ci dà qui già lo spazio per scrivere i miei esami quindi salviamo poi guardiamo un attimino cosa fa questo codice e aggiorniamo vedete che adesso il mio esame è diventato più piccolo e ha uno sfondo grigio proviamo a cambiarlo proviamo a applicargli quello quello stile uno stile colorato diverso per esempio mettiamo questo azzurro blu qui come si mette questo blu qui? questo blu qui ha tre classi navbar navbar dark e bg primary come il solito navbar dice che questo è un agbar navbar dark vuol dire che lo sfondo si aspetta di essere scuro e quindi il testo deve essere chiaro e qual è il colore di sfondo quindi in questo caso bg primary quindi prendiamo questo bg primary e andiamo a modificare questo in modo che sia dark e invece di bg light bg primary salviamo e aggiorniamo ok meglio ovviamente questo è uno span ma se io volessi per esempio cambiarlo in h1 io potrei vedete che l'effetto netto non è molto evidente anche se ovviamente qui è stato cambiato perché? perché la dimensione del font lo definisce la classe navbar brand questa classe qua e quindi se questo sia h1 o meno è solo un significato semantico che diamo al termine non un significato estetico in questo caso quindi possiamo lasciare per esempio lo span che c'era prima in quanto questo non è propriamente un header della pagina fa parte più della navigazione l'header potrebbe essere un domain se ci ragioniamo ok a questo punto la tabella andiamo a vedere se bootstrap ha qualcosa per le tabelle quindi cerchiamo table perfetto ecco qua table allora le tabelle in bootstrap vedete è una tabella table tadd tr th table tadd tr th esattamente come la nostra tabella non ha niente di particolare non ha niente di diverso da quel punto di vista però ha alcune classi per esempio la classe table che dovrebbe rendere così vedete applicando l'unica classe che qui c'è è la classe table quindi noi proviamo ad applicare questa classe table e vedere cosa succede intanto quindi table class col 6 table ovviamente non possiamo usare class due volte proviamo a vedere intanto cosa succede ecco vedete che già la tabella ha assunto aggiungendo solo questa classe tutta una serie di layout diversi allora vediamo se possiamo fare qualcos'altro al di là del cambiare il colore ecco per esempio potremmo mettere l'ader un pochino più più evidente così invece quindi questo data esame crediti potremmo averlo un pochino più evidente e allora per farlo bisogna aggiungere la classe tadd light quindi a tadd ovviamente allora vedete che la struttura è quasi sempre la stessa c'è un qualcosa e poi c'è per esempio un colore quindi questo è un tadd light la navbar e la navbar dark e così via quindi aggiungiamolo e app aggiorniamo la pagina vedete che adesso la tabella e appunto ha questo intestazione con uno sfondo azzurro e con uno sfondo grigio e così via poi uno può andare vogliamo avere le tabelle linee delle colonne le righe della tabella una più scura una più chiara eccetera 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 tutti i bordi e così via quindi ci sono senza bordi ci sono tutta una serie di proprietà che possiamo applicare alla tabella che bootstrap ci mette già a disposizione tra cui anche per esempio i colori con sempre degli esempi ora quello che noi vogliamo fare è proviamo a magari sistemare un pochino questo questo sito ecco fatemi aggiungere due cose qui vedete queste due proprietà mb0 e h1 allora se noi ispezioniamo questo codice vediamo che mb0 essentamente dice margin bottom 0 important allora mb0 è una proprietà componibile che dice m sta per margin b sta per bottom e quanto deve essere grande il margine da quel lato ed è componibile nel senso che noi potremmo anche scrivere margin top trattino 1 che vorrebbe dire che il margine superiore deve essere più grande 1 in percentuale relativa oppure 2 o quant'altro e oppure potremmo dire che il margine x quindi margine orizzontale quindi prima e dopo destra e sinistra deve essere 1 o il margine y oppure possiamo dire che il padding y deve essere 1 oppure 0 quindi è componibile in questo modo il primo elemento è il padding o il margine identifica il padding o il margine il secondo elemento identifica la direzione o il lato in cui applicare questa proprietà sopra, sotto, destra, sinistra destra e sinistra, sopra e sotto o dappertutto e il terzo indica quanto deve essere questo margine o questo padding in quella direzione o da quel lato dove 0 vuol dire appunto 0 1 vuol dire, possiamo vederlo in bootstrap se noi cerchiamo no in utilities dovrebbe essere position no spacing spacing vedete che 0 elimina il margine padding 1 è una dimensione di spacer per 0,25 dove spacer sarà definito da qualche parte in questa pagina oppure 0,5 oppure 3 che è la spazzatura di default impostata da bootstrap la spazzatura di default per 1,5 5 la spazzatura di default per 3 oppure auto imposta i margini solo i margini in automatico quindi noi per esempio quindi questo era l'MB0 questa classe H1 dal titolo suppongo che cerchi solo di impostare una dimensione di size più grossa 2,5 vedete che qui c'è una riga sopra questo perché navbar brand definisce font size e quindi dato che è definito prima ha la precedenza su questo quindi se noi per esempio spegnessimo font size da navbar brand questo H1 entrerebbe in funzione e quindi sarebbe più grosso e quindi questo in realtà si potrebbe togliere e nulla cambierebbe la nostra pagina HTML e allora la navbar in realtà ci piace abbastanza così e vorrei aggiungere allora questo container fluid ricordiamoci che siamo qui siamo in questo main potremmo aggiungere un po' di margine rispetto a sopra e allora potremmo dire che il margine superiore potremmo mettere 1 quindi MT1 margin top 1 quindi 0,25 della spazzatura di default di bootstrap vedete che si è spostato possiamo aggiungerne ancora un po' facciamo 2 facciamo 3 perché mi sembra sempre poco ok così mi piace di più e ora vorrei che questa tabella non stesse proprio così ecco mentre la riga mi piace è ben spaziata questo la tabella è incollata al bordo e allora vediamo se c'è un modo per per esempio centrare orizzontalmente le cose allora dice che c'è e si può utilizzare mx auto quindi stessa struttura mt3 dove m sta per margine x sta per orizzontalmente e auto sta appunto per impostare automaticamente i margini quindi proviamo a mettere questa tabella mx auto e vedere cosa succede ecco qua mi piace di più questa tabella centrata allora se andiamo a vedere la proprietà della tabella e qui è comunque una tabella che è grossa col 6 quindi questo è un col 6 è solo un col 6 strano perché prima e dopo non ha non ha niente e se qui noi adesso visto che abbiamo messo centrato mettiamo col col e basta quindi un col 12 vedete che la tabella sta sempre centrata in un certo senso ma occupa tutto lo spazio quindi se non vediamo un po' piccola gli diciamo di essere grossa per esempio 8 colonne o 6 colonne mi piaceva di più 6 ma equivalente ok quindi questo è il nostro sito stilizzato con Bootstrap e questa è in un certo senso la procedura che voi potete utilizzare per realizzare appunto il laboratorio di Venardi quindi partite da un html una porzione quantomeno di html per esempio che definisce la navbar visto che è la prima cosa che vi viene chiesta e provate a appunto a definire la navbar come richiesto nel testo una volta che avete definito la navbar passate alla barra laterale che a questo punto sarà un col 4 dato che vi chiede che sia un terzo della pagina 4812 quindi un col 4 e poi il contenuto principale che sarà un col 8 ecco e usando sempre la documentazione di Bootstrap qui non c'è davvero molto da imparare se non appunto come qui non ci sono concetti tanto nuovi da imparare ma appunto da imparare a utilizzare questo framework quindi come utilizzarlo come applicarlo quando applicare cosa che container deve avere dentro una ro che ro deve avere dentro delle colonne e così via ecco guardiamo anche cosa succede se attiva la modalità mobile questo per esempio dice che è un pixel 2 ora vedete che cosa succede? che Bootstrap si è adattato quindi questa è andata a capo e la tabella è rimasta nella pagina eccetera cosa succede se noi giriamo? giriamo, ecco se noi giriamo il telefono in questo caso la risoluzione visiva di un pixel 2 che ovviamente il testo va a capo e qui rimane ben spaziato noi i browser hanno a disposizione una serie l'abbiamo visto la settimana scorsa di opzioni di default per esempio potremmo prendere un iPhone e vedere che l'iPhone per esempio ha un comportamento un po' diverso vedete questa navbar che finisce qui quindi bisognerebbe probabilmente giocare un attimino con la navbar e capire perché rimane questo spazio qui bianco e stessa cosa potremmo provare con un iPad e vedere che in un iPad tipicamente la visualizzazione desktop è più che sufficiente perché addirittura orizzontalmente non cambia niente rispetto alla nostra versione desktop perché hanno una risoluzione effettiva abbastanza alta e qui vedete che sono appunto evidenziati i breakpoint questo è un breakpoint a 768 questo a 1024 e così via e notate, vediamo se riusciamo a vederlo qui sotto che è da qualche parte vediamo se riusciamo a trovare una media query ok comunque bootstrap esegue queste operazioni di rescaling utilizzando ovviamente delle media query e nella documentazione prima ci siamo passati quando navigavamo qui nel layout vedete ecco qua alla fine usa delle media query media query dove la profondità, la larghezza massima è 576 pixel applica queste regole e quindi applica appunto delle media query per gestire correttamente i vari col, le varie colonne più piccole e quant'altro ecco una cosa che posso aggiungere prima di terminare il video è che col ovviamente esiste una versione per ogni breakpoint e quindi mentre col è quello diciamo generico utilizzabile per tutto uno potrebbe dire ok io voglio che sia col 6 da extra small in giù ma quando sono oppure facciamo diverso quando sono su extra large quindi da 1200 pixel in su sia un col xl 6 mentre quando sia sull'extra small o sullo small facciamo sullo small sia un col 6 quindi col sm 6 scusate un 12 quindi sto dicendo a bootstrap di applicare questo quando sono sull'extra large questo quando sono sullo small e poi possiamo avere anche un anzi facciamo un col no? così abbiamo un default quando siamo sull'extra large abbiamo 1200 in tutti gli altri casi applichiamo col 12 vediamo cosa succede vedete cosa succede che questo browser il browser probabilmente non è ha una risoluzione effettiva maggiore di 1200 pixel e quindi questa viene messa su col 12 proviamo magari a 992 vediamo se riusciamo a scatenare lg ecco qua quindi probabilmente adesso questa finestra è a circa a meno di 1200 pixel e più di 900 quindi c'è circa 1000 pixel vedete che qui è diventata di 6 man mano che per esempio riduco vedete man mano che riduco arriviamo a 12 stiamo a tutto schermo si allargo a un certo punto arriviamo al breakpoint eccolo qui questo è il breakpoint e vedete che da 12 passa 6 quindi applicare più di una classe di tipo col fa funzionare diciamo la media query corrispondente e quindi fa applicare questa in tutti i casi nel nostro esempio e questa è prima classe ma l'ordine è solo è casuale in questo caso non è significativo applica questa col lg6 solo quando arriva ad un certo breakpoint